Eccoci di nuovo insieme con Dalla parte degli animali, con Stella, con Martino, Nicole e le volontarie che li hanno salvati. Elena di Protect the Dog ci racconta la storia di questi due bellissimi ex randagini, perché ora non sono più randaggi, di Sicilia. Loro sono stati trovati in uno scatolone dalle volontarie che collaborano con me al sud. Sono arrivati qui al nord da Fondazione Barattieri e loro stanno cercando ancora una famiglia. Sono molto belli, vedete, hanno circa cinque mesi mi dicevi Elena. Cinque mesi e mezzo, sì. Quindi abbiamo Nicole, che è la femminuccia, che è questa, e abbiamo Martino. Io credo che questi cuccioli faranno davvero la felicità di chi vorrà adottarli. Sì, sono veramente bellissimi, adottateli. Assolutamente sì. Quindi Elena, il numero di telefono? 333 87 62 22 5 Oppure, come al solito, scrivete a Porta Mia Casa, chiocciola dalla parte degli animali.it e siamo arrivati davvero alla fine. Grazie mille! Grazie.